che siamo con cristian rossi autore di una doppietta in questa partita questa vittoria dell'ositana per 3 a 2 qualche commento a caldo bene è importante contenti contenti soprattutto il primo gol secondo è stato un po più fortuito però su schema quindi bene ce lo portiamo a casa sto risultato per il proseguo della stagione su cosa pensate di lavorare 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 su fiato gambe schemi che il mister è molto bravo va bene grazie mille